siamo al termine della gara tra lione e montemiletto finita col punteggio di 1 a 1 siamo con il mister del montemiletto contaldo allora mister è una partita molto combattuta il montemiletto venuto qui a lione ha fatto la sua partita purtroppo non conta tanto dal punto di vista magari della classifica però che montemiletto ha visto è soddisfatto della gara dei suoi ho visto il solito montemiletto c'è una squadra che in campo fa la sua partita crea tantissimo sbaglia tantissimo e chiaramente se non si fanno i gol e le partite non si vengono quindi purtroppo è dall'inizio che che è così che sempre per un pelo non riusciamo ad agguandare il risultato pieno ha saputo fare a meno dell'assenza molto molto importante di gerillo davanti li sono piaciuti come si sono mossi grande sperandello devo dire bene sono soddisfatto nel momento in cui si sono sciolti hanno fatto veramente bene sia a livello individuale che come che come reparto però ci manca qualche gol ecco si è creato tantissimo e alla fine comunque siamo qua a discutere un altro pareggio però sia chiaro che anche il leone ha fatto la sua buona partita certo nel momento in cui siamo rimasti con uno in meno penso che mancavano più di dieci minuti alla fine forse 15 e abbiamo dovuto fare di necessità virtù ma anche in quel frangente di partita abbiamo creato diverse palle gol e quindi la partita la potevamo anche vincere ha avuto modo di affrontare tutte le squadre di questo girone secondo lei sarà lotta fino alla fine o c'è qualcuna che l'ha impressionata positivamente più delle altre beh quello che ho diciamo constatato che comunque le scam le squadre dipendono molto dagli uomini che schierano in campo quando hanno degli uomini importanti che restano fuori chiaramente si abbassa un po il livello qualitativo e quindi la squadra diventa un po più penetrabile diventa un po più diciamo possibile un agguantarla però è quello che vedo è che comunque ci sta c'è il cervinara c'è il e la mariglianese che stanno un pochettino al di sopra di tutte le altre fino a qualche settimana fa la mariglianese era un rullo compressore poi ha avuto dei problemi di organico e ha pagato qualcosina quindi nelle ultime due partite il cervinare si è ricompattato ha recuperato befi e quindi adesso una marcia in più e anche ieri ha vinto la partita in trasferta quindi merito a queste squadre che hanno degli uomini determinanti che gli possono far vincere le partite in qualsiasi in qualsiasi momento poi per il resto è comunque un risultato equilibrato perché grandissimi risultati non ne ho viste eccetto quelli tra tra mariglianese e cervinara 3 0 e 3 a 1 poi i restanti sono tutti risultati sempre insomma sulla linea dell'equilibrio questo è quello che si denota infatti le qualificazioni sono ancora aperte mancano ancora tre partite ci sono nove punti a disposizione e noi non molleremo fino a fino a quando la matematica non ci condannerà ultima domanda una domanda che faccio a tutti dall'alto della sua esperienza come ha visto il leone il leone è un'ottima squadra un ottimo organico però anche loro diciamo pagano magari qualche qualche assenza è chiaro che un format così è la prima volta che succede ed è tutto nuovo nuovo per tutti per per società per allenatori staff tecnici giocatori che venivano da un periodo di attività molto lungo e quindi ci sono tantissimi infortunati non a casa noi abbiamo sei sette uomini fuori dall'inizio che abbiamo delle defiance di uomini fuori con lunghi infortuni però diciamo questo è la situazione di un girone equilibrato il leone è un'ottima squadra ma come lo sono anche le altre io squadre deboli non ne ho viste ho visto tutte le squadre che si giocano una partita poi c'è l'aspetto situazionale puoi fare gol e vincerlo non prendi gol e la vinci oppure dipende molto dalla situazione poi specifica situazionale però alla fine un girone equilibratissimo e quindi ci sarà comunque battaglia fino alla fine anche per la terza posizione penso siamo con mister sicuranza al termine di lioni montemiletto 1 a 1 allora mister a volte non mi nemmeno da fare le domande giuste perché lioni è perseguitato dalla sfortuna ha perso alle ruzzo nel suo momento migliore anche oggi due episodi dubbi però lei era molto arrabbiato più che con la direzione arbitrale con la sua squadra perché oggi no è hai detto bene noi dobbiamo essere onesti con noi stessi innanzitutto non mi è mai piaciuto cercare alibi o scusanti per magari qualche risultato non positivo e anche oggi adotto lo stesso sistema dopo un primo tempo credo giocato bene e probabilmente avremmo meritato più di un gol come al solito poi prendiamo gol su un'azione che insomma proprio banale e e quindi questo il primo tempo poi nel secondo tempo mi devo essere onesto non abbiamo fatto quello che dovevamo fare al di là della superiore numerica perché poi spesso la superiore numerica non si traduce necessariamente in una in una vittoria per cui nel secondo tempo non abbiamo giocato bene noi dobbiamo essere come dire onesti con noi stessi io per prima ovviamente non mi è piaciuto l'atteggiamento noi non dobbiamo se perdiamo le nostre caratteristiche sono quelle dell'umiltà e della cattiveria agonistica perdiamo il 50 per cento delle nostre potenzialità per cui devo dire tra l'altro abbiamo trovato di fronte una squadra secondo me forte e come lo sono tutti in questo girone per cui insomma un tempo a testa poi è chiaro sugli episodi arbitrali voi stessi avete visto non lo so perché hanno lato il gol probabilmente c'era un rigore qualche altro episodio come dire discutibile però ripeto un primo tempo ottimo un secondo tempo non all'altezza di quello che io mi aspettavo e di questo ne dovremo parlare martedì perché ovviamente altre tre partite e tutto ancora in bilico e andiamo avanti complimenti per la signorilità una mia curiosità nel finale non ha inserito polizzi rendendo l'attacco pesante ma pugliese cercando di prenderli in velocità probabilmente esatto perché una squadra con un uomo in meno si era praticamente abbassata con il baricentro si erano chiusi e buttare palle in avanti non avrebbe probabilmente insomma quella è stata la mia ipotesi sortito gli effetti che noi volevamo pensavo di attaccarli lateralmente e di sfondare lateralmente poi è chiaro che insomma loro ci sono difesi bene qualche episodio forse è stato anche sfavorato a noi la traversa lì insomma si poteva fare di più però insomma non è che si può poi spesso non è che più attaccanti metti e più vinci le partite e poi bisogna anche a dire un'altra cosa e queste sono le classiche partite che magari non riesce a vincere ma non devi perdere per cui insomma pugliese poi magari ho fatto una scelta la prossima volta vedremo diversamente ultima domanda mister adesso due corazzate parliamoci chiaro sono due squadre che non hanno dimostrato di non essere più forte degli uni perché lione la affrontate alla pare tutte e due però sono due corazzate la domanda è qual è la strada maestra per poter fare almeno tre punti secondo me nelle prossime due non esistono ricette nel calcio io l'unica ricetta che conosco è quella del lavoro dobbiamo un attimo fare delle riflessioni ognuno di noi deve fare un'autocritica perché così sono stato abituato non mi piace cercare responsabilità in altri ognuno di noi deve fare autocritica le auto assoluzioni servono a poco e credo che non servono in questo momento sì ci aspettano due partite sulla carta probabilmente con le squadre due squadre più forti ma che poi insomma questo già si sapeva le abbiamo già affrontato noi andiamo sereni sabato domenica non so quando a fare quest'altra gara e ce la gioceremo ovviamente fino all'ultimo secondo utile